Un'altra curiosità, Giuseppe, che cosa stai preparando per il prossimo anno 2019? 2019, l'anno della cultura, della città della cultura. Diciamo che è in fase di editing il settimo libro, Dossier Isabella Morra, la tragica storia della giovane poetessa del XVI secolo, la fanciulla assassinata. Sarà edito sempre da biblioteca, la casa editrice con la quale mi sto trovando veramente bene dopo le varie vicissitudini con case poco serie. Comunque vi confido che già sto scrivendo un altro saggio su Roma e poi farò una breve permanenza nella vostra meravigliosa isola, Ischia.